No, noi no, ha detto se dovete votare anche noi, meglio di no. No, ma per carità! Va bene così, si è capito dalle vostre facce il vostro voto, va bene così. Ma siete stati bravi, non c'è problema. Busso, facciamo entrare la busta! Prego Vanessa Pretola! Allora, vai! Grazie, grazie. È giunto il momento? Sì. Allora, non è vero che abbiamo litigato, no, eravamo tutti abbastanza d'accordo. Ripeto, il sangue non è, abbiamo cercato di essere molto obiettivi e quindi praticamente oltre alle voci che come ho detto prima sono tutti stati veramente bravissimi, abbiamo cercato anche di premiare un pochino la personalità, un po' tutto l'insieme dell'esibizione. Per cui, il vincitore del Festival Italia in Musica sezione Under 14 è, rullo di tamburi, Giorgia Lacommare. Eccola qua! Marco, abbiamo il premio per lei? Grazie, un ringraziamento, però un applauso fortissimo, io lo vorrei per tutti perché veramente c'era l'imbarazzo della scelta. Grazie.